perdere chili di troppo negli ultimi anni sta diventando una vera e propria necessità l'aumento del peso corporeo è legato a vari fattori tra i quali una vita troppo stressante squilibrata una dieta poco bilanciata negli ultimi giorni è presente in farmacia dalla ricerca di aboca un nuovo integratore Libramed che è indicato anche nei bambini al di sopra degli otto anni questo integratore va a contrastare il picco glicemico uno dei fattori responsabili dell'obesità e del sovrappeso soprattutto dell'aumento della circonferenza ombelicale Libramed grazie al suo complesso brevettato polycaptil gerretard rallenta l'assorbimento dei carboidrati riducendo l'entità e la velocità dell'incremento della glicemia dopo pasto il cosiddetto picco glicemico post-prandiale inoltre riduce l'accumulo di grasso nel tessuto adiposo e la ricomparsa precoce del senso di fame la posologia consigliata negli adulti è di tre compresse prima dei due pasti principali mentre nei bambini tra gli otto e i dodici anni di due compresse prima dei due pasti principali